Il mio intervento è stato focalizzato sulla pianificazione finanziaria e ritengo che il modello di pianificazione finanziaria delle imprese anche di grosse dimensioni possa essere traslato ovviamente con gli opportuni adeguamenti anche nelle imprese PMI e questo è il mio obiettivo e la suggestione che voglio portare a questo corso è di utilizzare le best practice delle imprese di anche grosse dimensioni applicandole alle imprese di piccole e medie dimensioni.